Numero 3, Pediglino Numero 4, Lampia Numero 5, Regalamo Numero 7, Schiraco Numero 4, 11, 15 Numero 18, Palolo Numero 2, Tito di Giorginini Numero 25, Giorginini Numero 70, Montani Numero 77, Cingerelli E adesso Massimo Ficcanetti A disposizione Cavalieri, Icavo, Malonka, Efermis, Pedras, Tassidis, Piaggiani Tutti continuano il sogno per i Montiwani Tifosi ricciagliosi, forza per la nave!